Ciao a tutti! Guardate un po' che cosa ho qua, la finta colomba e gli amaretti. Perché finta? Perché in realtà non si tratta di un impasto lievitato come si fa solitamente quando si realizza la colomba, ma di una torta a lievitazione istantanea, facilissima da preparare, a cui però diamo la forma tipica di questo dolce pasquale. Così potrete portare a tavola una buona colomba, ma con pochissimo sforzo, in più ha un profumino e un gusto di amaretti davvero irresistibile. Dai, iniziamo a prepararla! Iniziamo la preparazione partendo dagli amaretti, che dobbiamo aggiungere all'interno di un sacchettino e ridurre in farina utilizzando un batticarne o un bicchiere. In alternativa potete frullarli all'interno di un mixer fino a ridurli in farina. Dovrete ottenere questo risultato. All'interno di una ciotola aggiungiamo gli albumi di tre uova. All'interno di una ciotola più grande aggiungiamo invece i tuorli. Iniziamo quindi a lavorare gli albumi con le fruste elettriche fino a montarli a neve ben ferma. Proprio così. Dedichiamoci ora ai tuorli, che dovremo iniziare a lavorare con le fruste, e a cui dobbiamo aggiungere, poco per volta, lo zucchero semolato, sempre continuando a lavorare con le fruste. Otterremo in questo modo un composto per sfumoso ed areato. Aggiunto tutto lo zucchero possiamo versare il latte a temperatura ambiente, sempre aggiungendolo a filo. Versiamo quindi il burro, precedentemente fuso e lasciato da parte di intiepidire, anche in questo caso versandolo a filo. È il momento di aggiungere la farina 00. L'aggiungeremo un cucchiaio alla volta, continuando a lavorare con le fruste elettriche. Aggiungiamo ora 4-5 gocce di aroma di mandorle amare. Lavoriamo ancora con le fruste e versiamo quindi una bustina di lievito vanigliato per dolci. Dovremmo ottenere un composto ben liscio e vellutato. A questo punto possiamo aggiungere gli amaretti che abbiamo sbriciolato inizialmente e li aggiungeremo incorporandoli con una spatola. Compiendo dei movimenti dal basso verso l'alto, poco per volta, aggiungiamo tutti gli amaretti. Fatto questo non ci resta che aggiungere gli albumi che abbiamo montato a neve. In questo caso li aggiungeremo poco per volta, incorporando con movimenti dal basso verso l'alto, così da continuare ad incorporare aria all'interno del nostro composto. Una volta pronto lo versiamo all'interno di uno stampo da colomba, li veliamo per bene con una spatola, e quindi decoriamo in superficie con degli amaretti sbriciolati, anche grossolanamente. così da ricoprire un po' tutta la superficie. E infine della granella di zucchero. Non ci resta quindi che cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per circa 50 minuti. Una volta sfornata, la nostra finta colomba e amaretti è pronta. Guardate un po' che bella, ha un profumino davvero screpitoso. Potrete lasciarla freddare e portarla già a tavola, ma se la preparerete il giorno prima sarà ancora più buona. Ora vi lascio il ripieno con degli ingredienti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Ed eccola qui, la nostra colomba agli amaretti. Bellissima, super soffice, è davvero buonissima. Da provare! Per preparare la colomba agli amaretti serviranno 3 uova, 100 g di burro, 280 g di farina 00, 180 g di zucchero, 80 g di amaretti, 180 ml di latte, una bustina di lievito vanigliato per dolci, 4-5 gocce di aroma di mandorle amare. Per decorare invece amaretti e granella di zucchero. La trovi su tuorlorosso.it Per decorare invece amaretti,